quello che io trovo molto inquietante appena menzionato è il ruolo dei servizi segreti il fatto che i servizi segreti nel loro rapporto annuale dichiarano apertamente nelle interviste con i media dichiarano apertamente che non solo hanno fornito elementi agli inquirenti cosa normale alcuni servizi segreti a notizia di crimine deve fornire ma che sono con te hanno continuato a rimanere coinvolti nell'indagine io lo trovo una cosa aberrante una democrazia aberrante perché i servizi segreti non hanno obblighi come invece la polizia giudiziaria come invece dovrebbe avere il giudice istruttore che di valutare le prove a favore contro le servizi segreti hanno altri obblighi e altri interessi evidentemente il fatto che la procura dichiari apertamente che l'indagine è stata condotta sull'istigazione di servizi segreti nazionali ed esteri è ancora più preoccupante per me grazie a tutti grazie a tutti